Uno dei cinque giardinieri che hanno fatto ricorso al giudice del lavoro dopo l'assegnazione dell'appalto della cura del verde della ASL di Teramo a una ditta romana e quindi rimasti senza lavoro, potrà essere reintegrato. È quanto stabilito da un'ordinanza del giudice del lavoro del 25 settembre scorso, con la quale propone il riassorbimento del lavoratore, con un termine di 30 giorni per l'accettazione o meno della stessa ordinanza da entrambe le parti. Non è una sendenza, è un'ordinanza che ha fatto una proposta di conciliazione, dando alle parti 30 giorni di tempo dal deposito dell'ordinanza per dire sì o no. Poi ci sarà l'11 di dicembre l'udienza e lì vediamo che cosa si concluderà, speriamo positivamente. Però quello che è successo è che su cinque lavoratori uno si è discusso con un giudice e quattro diciamo il 14 di ottobre ci saranno le udienze per gli altri quattro lavoratori e ci auguriamo che anche questi vanno a buon fine. Ricordiamo che sono lavoratori che da diversi mesi sono senza stipendio perché in agricoltura purtroppo non c'è la famosa naspice. La FAI CISL che tutela i cinque lavoratori esprime soddisfazione in attesa della sentenza del prossimo 11 dicembre. Noi diciamo, provoliamo alla magistratura che che se ne dica è stato abbastanza cedere nel fissare l'udienza e addirittura mettere alla prima udienza un'ordinanza. Rispetto al lavoro diversi mesi che abbiamo fatto diciamo richieste di ispezione per vedere questa gara da PAD se funziona, come è stata fatta. Se i lavoratori si dice che non sono 15 che stanno lavorando ma addirittura 10, 8, 9. Stiamo giocando diciamo al superanalotto però nessuno ci fa sapere, insomma non ci fermeremo qui perché sicuramente se passerà altro tempo non escludiamo di andare dalla Procura della Repubblica a fare una denuncia dettagliata.